Fabrizio Frizzi con la moglie Carlotta e la figlia Stella, è la prima uscita dopo lischemia Fabrizio Frizzi torna finalmente a mostrarsi in pubblico, eccolo passeggiare con la moglie Carlotta Mantovana e la figlia Stella, dopo la grande paura dellischemia e. Soprattutto, i dubbi che erano stati sollevati sulle reali condizioni di salute del celebre conduttore tv. Quasi un mese dopo Fabrizio Frizzi, insomma, sembra stare bene, chi pubblica le foto della sua passeggiata con la moglie Carlotta e la loro figlia Stella. E il conduttore tv sembra davvero aver superato la grande paura. . E lo aspettiamo un video insomma, un nuovo passo verso la definitiva e completa guarigione di Fabrizio Frizzi. . Che Carlo Conti ha già detto di aspettare di nuovo in tv, guarda. . Per ora, però, meglio ritrovare le forze in famiglia, per il piccolo schermo c'è ancora tempo e… . 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